Io ho pensato due cose, ho pensato prima se avessi avuto 25 anni me ne andavo, perché quando succede questo non c'è più niente da fare, meglio andarsene, e poi ho pensato sì è la specie della dittatura della merda, ma non della tortura, non ho la forza armata fuori di casa, non mi arrestano, se dico certe cose mi diffamano, ma non mi arrestano, non mi torturano, non mi picchiano, forse anche a 25 anni potevo restare qui, perché è una dittatura della merda, però oltre un certo limite non c'hai le forze per opporti a questo. Io ho parlato con un sacco di gente che è stata sotto le dittature e mi raccontavano la decadenza di alcune persone integerime, si è cominciata a vedere quando tu vedevi che dopo anni, uno o due anni, ancora ripetevano adesso cade, non può durare, questa è la grande illusione, che ciò che è vuoto e che è fasullo non possa durare, non è vero, dura.